Ciao, sei un softgunner che gioca in CQB, che gioca in partite notturne o che pratica speedsoft o speedQB? Beh, allora segui tutto il video fino alla fine perché oggi ti darò un'idea. Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Bull, degli Aces of Freedom di Milano e come detto nella intro di questo filmato, oggi voglio darvi un'idea. Il mese scorso ho comprato questo dispositivo dalla Cina. Di che cosa si tratta? Questo è un tracer, ho chiamato anche unità tracciante. Per chi non sapesse che cos'è un'unità tracciante, è un dispositivo che si monta sulla nostra ASG ed è praticamente un illuminatore di pallini. Ma sia chiaro, non di normali pallini da softair, ma di pallini molto particolari. Si chiamano pallini traccianti. I pallini traccianti sono dei pallini particolari e più costosi chiaramente dei pallini normali da softair proprio perché possiedono delle proprietà. Sono costituiti da una mescola, da un materiale, che è in grado di intrappolare appunto le particelle luminose. Quindi questi pallini, quando passano attraverso questo dispositivo, vengono illuminati. E quando escono appunto dalla canna della nostra ASG, sono molto luminosi, possiamo dire fosforescenti, per alcuni secondi, alcuni secondi che sono sufficienti, utili a noi per determinare la loro direzione, quindi capire dove stiamo sparando, ma soprattutto anche capire se siamo riusciti a colpire il nostro avversario. I pallini traccianti, come pallini normalissimi da softair, sono disponibili in varie grammature e anche vari colori. Ovviamente per il discorso grammatura, ragazzi, indirizzate la vostra scelta sulla grammatura che utilizzate di solito con i normali pallini. Invece per il discorso colore, io vi voglio consigliare il colore verde, perché questi pallini che si illumineranno e rimarranno, diciamo, di colore verde, sono molto più luminosi della colorazione rossa, blu o viola. Vi dicevo appunto, questo dispositivo l'ho comprato dalla Cina ad un prezzo di circa 30 euro. E quando ci arrivo a casa, nella sua scatoletta, appunto troviamo il dispositivo tracciante, un adattatore da 14 mm a 11 mm per poterlo montare sulle nostre pistole, e anche un cavetto micro USB USB per poterlo ricaricare. Esatto, avete capito bene, per poterlo ricaricare, perché questo dispositivo è dotato di una batteria interna integrata da 3,7 volt, è una lipo, che è ricaricabile. Quindi questo molto utile. Ma soprattutto, ragazzi, questo tracer è dotato di autospegnimento, infatti dopo 15 minuti di inattività, il dispositivo si spegnerà da solo per non consumare appunto la batteria. Il funzionamento è molto semplice. Il pallino passa attraverso questo dispositivo, questo tracciante, attivando dei sensori che a loro volta attiveranno dei LED che forniscono luce ultravioletta, ultravioletta perché è molto più prestante della normalissima luce per illuminare questo tipo di pallini. Questa luce ultravioletta caricherà appunto di particelle luminose il materiale di cui è costituito questo pallino, e come vi dicevo prima, questo pallino luminoso fosforescente uscirà dalla vostra ASG e quindi vedrete praticamente il pallino luminoso dirigersi verso dove l'avete sparato praticamente. Esistono vari tipi di unità traccianti. Ora, io volevo dotare questa mia replica, sicuramente l'avrete già vista, si tratta dell'MK18 che utilizzo spesso sia nelle mie Milsim da 24-48 ore, ma anche durante le mie partite CQB perché è preparato al meglio. Ecco, volevo dotare questa mia ASG di questa funzionalità tracciante, senza però dover scendere a compromessi con l'estetica, perché non amo particolarmente montare questo tipo di dispositivi traccianti, che sono degli schioppettini, su una replica preparata per le Milsim. Ecco, quindi mi sembrava un crimine. E sappiate ragazzi che ogni qualvolta voi fate questo, un Renactor muore. Allora, veniamo all'idea. Io sul mio MK18, come avete visto, monto questo silenziatore. Si tratta di un silenziatore M4AAC2000. È un silenziatore replica della Big Dragon, un silenziatore molto massiccio, di 170 mm di lunghezza e 38 mm di diametro. È un silenziatore di tipo sgancio rapido, infatti in dotazione vi forniscono anche l'apposito spegnefiamma su cui avvitarlo. Il tutto a un prezzo di circa 40 euro. La domanda che mi sono fatto è la seguente. È possibile integrare questo tipo di dispositivi all'interno di questo silenziatore? Perché chiaramente non intendevo spendere una barcata di soldi per dispositivi silenziatori realmente esistenti che integrano già di fabbrica un'unità tracciante. Ecco, quelli sono dispositivi il cui loro prezzo varia dai 150 ai 200 euro e non mi sembrava il caso. Le dimensioni di questo dispositivo sembrano perfette per il nostro scopo. Infatti, questa unità tracciante si inserisce alla grande all'interno del nostro silenziatore senza modifiche. Basta una leggera spessorazione fatta con del nastro di carta che il gioco è fatto. E adesso vi mostro subito come ho fatto. Ok ragazzi, il procedimento è molto semplice. Questo è il nostro silenziatore. Basta svitargli il cappello, quindi svitiamo e rimuoviamo il tappo, che notiamo subito al suo interno la schiuma fonoassorbente. La rimuoviamo temporaneamente. Ecco qua i due cilindretti di schiuma che vi dicevo, che notiamo immediatamente che all'interno di questo silenziatore vi è all'interno, in fondo, una piccola spalletta di alluminio. Ecco, ed è proprio abbattuta con questa spalletta che noi spingeremo questi due cilindretti di spugna. Una volta fatto ciò, mettiamo un attimo da parte il nostro silenziatore e prendiamo la nostra unità tracciante, che dovremo spessorare leggermente, circa mezzo millimetro, con del semplicissimo nastro di carta. Io utilizzo del nastro da 38 mm, che applico al centro facendo due giri alla mia unità tracciante. Due giri che bastano per inserire, vedete, il mio tracer all'interno del silenziatore senza farlo ballare, ma allo stesso tempo è liberissimo, ok, di farlo uscire qualora io debba accenderlo o comunque ricaricarlo. Quindi non ci resta che accendere la nostra unità tracciante, inserirla all'interno del nostro silenziatore, riavvitare il suo tappo, che il gioco è fatto. Siamo pronti per montarlo sulla nostra ASG e iniziare a giocare. Conclusione. Con soli 30 euro, ragazzi, chiaramente perché il silenziatore lo possedevo già, sono riuscito a soddisfare la mia esigenza, ovvero ottenere e aggiungere questa funzionalità da tracciante alla mia ASG, senza che però questo dispositivo sembri appunto un tracciante. Quindi sono riuscito a cammuffare la cosa. Ragazzi, se anche voi siete interessati a questo tipo di dispositivo, e come me non volete spendere una barcata per dispositivi già belli che fatti, allora vi consiglio alla grande questa opzione. Il tracer è un dispositivo largamente utilizzato nel mondo, specialmente in USA e in Asia, dove soft gunner e anche speed softer utilizzano spesso questo tipo di dispositivi sulle proprie ASG e le proprie pistole. Infatti questo dispositivo è semplicissimo da usare, ragazzi, basta accenderlo e iniziare a sparare. Adesso vi voglio mostrare il mio risultato. Niente ragazzi, anche questo video è giunto al termine. Io vi ringrazio per averlo visto fino alla fine, ma soprattutto devo ringraziarvi per tutti quei like e commenti positivi che avete lasciato sotto i nostri contenuti in questi mesi. Grazie mille ragazzi, questa cosa veramente ci rende contenti, ma soprattutto siamo orgogliosi perché questo canale sta crescendo di iscritti, stiamo riuscendo a creare una piccola community di soft gunner, che nonostante comunque sia ancora piccola, comunque rimane una community molto attiva e questa cosa, come detto, ci rende veramente orgogliosi. Grazie mille ancora ragazzi. Per il resto, diciamo, la solfa la conoscete già. Se questo filmato vi è piaciuto, metteteci un bel like che ci fa piacere, ma soprattutto se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi a questo canale YouTube, ma ricordate di attivare la campanella qua in basso per non perdere tutte le novità del nostro canale YouTube. Insomma, poi vi ricordo anche che siamo presenti su Instagram e Facebook, i nostri social network, dove settimanalmente andremo a postare contenuti, stories, insomma, tutte le novità del nostro canale, insomma, le posteremo là sopra. E quindi non mi rimane che ringraziarvi, salutarvi, sperando di riprendere il più presto possibile, in modo tale da portare anche contenuti sempre più belli. E, bom, tanto comunque noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi! Oh 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 Ciao